Siamo con Marco Vesi, una salvezza importante e soprattutto non scontata per come poi stava andando anche la stagione in un campionato così equilibrato. Sì è vero, è la prima volta che faccio questo girone, questo campionato e devo dire che è veramente equilibrato. Tutte quante le squadre sono ostiche, sono venute a giocare a viso aperto qua da noi e noi altrettanto sugli altri campi nonostante fossero veramente sulla carta difficili. La classifica parla da sé, tutte le squadre ancora sono in lotta per una posizione migliore e noi oggi ci siamo tolti una soddisfazione immensa, non scontata come dicevi te, ma meritata. Dopo una stagione come questa che ha avuto anche tante sfortune, questo è vero, infortuni in tutti i reparti, però quanta esperienza dà in vista del prossimo anno per poter veramente crescere? Sicuramente, Cosechi era una squadra nuova, una società nuova che doveva mantenere assolutamente la categoria e ha fatto esperienza, è subito misurata in questo campionato con squadre veramente forti che hanno fatto categorie importanti e che fanno comunque la Serie D da tanto tempo, quindi più abituate a questi tipi di partite, a questi tipi di campionato. Il mister, la società e tutti quanti dobbiamo costruire qualcosa per il futuro perché si può veramente fare qualcosa di importante. Sentite voi, giocatori, la sensazione, l'idea di rappresentare comunque non tanto un semplice paese ma una regione vostra come tutto il sud-est della Sardegna? Ti dico, io non sono sardo, però questa cosa mi è entrata dentro e la verità è che sì, la mia risposta è sì. Sentiamo di rappresentare questo paese, ma tutta quanta l'ogliastra e sentiamo l'affetto di chi ci viene a vedere, questo qui ci dà tanta carica e ci dà tanto senso di appartenenza e voglia di sudare la maglia. Grazie mille.